Questa casa è sempre appartenuta alla mia famiglia. Era una semplice casa di contadini con un bello rinvento. Ho deciso di fare un omaggio alla memoria storica della mia famiglia. Ho sempre pensato che la foto che c'è nel soggiorno rappresentasse la cura femminile verso il cliente, il cliente rappresentato dal bambino. Il bambino è il mio babbo nel 1926. Quelle cose particolari che facevano parte proprio del modo di essere, dei personaggi della mia famiglia che mi venivano raccontati da bambina. E così ogni camera è stata dedicata a questo modo di essere. La signorina di buona famiglia, l'esploratore inarrestabile, il libertino Vezzone. Poiché la mia nipote Maya è l'ultima discendente e Maya è la principale della Pleiadi, ho dedicato le tende alle Pleiadi. In ogni tenda ho voluto inserire una fotografia in bianco e nero sempre, quindi ricreare questo legame anche con la villa e una fotografia della mia mamma nei vari momenti della sua vita.